Un viaggio, anzi due, verso l'alto, tra meravigliosi affreschi e una vista mozzafiato. A partire dal 9 dicembre e fino a giugno 2024, saranno aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone, nella Basilica di Santa Maria di Campania, sia la salita alla Cupola del Guercino, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, con la possibilità di accedervi, a scelta, tramite un biglietto unico o separatamente, in orari che consentano la massima fruibilità e accessibilità di entrambe. Un'iniziativa resa possibile grazie al protocollo d'intesa, firmato ieri mattina da Comune, Diocesi e Banca di Piacenza, per promuovere sempre di più la bellezza, la storia e la cultura della nostra città. Siamo, a buona ragione, la prima città dell'Emilia Romagna ad avere due salite al cielo, nella stessa città, Pordenone e Guercino. Il progetto inizierà dal 9 dicembre, tutti i fine settimana, sabato e domenica, dal 9 dicembre fino appunto al giugno 2024 per partire. Avremo delle salite destinate al sabato e alla domenica, salite che non confliggeranno, questo è l'accordo che abbiamo giustamente individuato con il padre guardiano di Santimera di Campania, con le celebrazioni per giustamente rispettare appunto il luogo di culto e che saranno però aperte nelle giornate di sabato e di domenica. E' indubbiamente due perle, possiamo veramente dire che se si uniscono possono rappresentare bene il gioiello che è la nostra città anche da un punto di vista diciamo artistico, culturale, storico. La Banca di Piacenza ci sarà prestata e ci sarà. E' un'iniziativa molto bella perché due cupole così stupende, Guercino e Pordenone, è giusto che stiano assieme. Per riuscire a fare bene bisogna collaborare e lavorare insieme e in questo caso dare la possibilità ai cittadini di comprare un unico biglietto per salire al cielo, per andare a vedere le nostre cupole, credo che sia proprio l'inizio di una collaborazione che vede tutti impegnati per un unico risultato che è dare più luoghi da visitare nella nostra bellissima Piacenza e dare opportunità ai turisti.